Un programma degno delle grandi manifestazioni di tipo gastronomico e quello che caratterizza la ventunesima edizione del Brodetto Fest che si svolgerà sul lungomare del Lido a Fano nei giorni dall'1 al 4 giugno prossimo. Come in un buon piatto, ingredienti ci sono tutti, chef stellati come Giuseppe Mancino di Viareggio, Francesca Morsetti e Giorgione, personaggi televisivi di grande notorietà come Roberto Giacobbo, il conduttore di Freedom, il direttore d'orchestra Peppe Vessicchio, l'esploratore Alex Bellini e anche cantanti come Claudio Morosi, il fanese concorrente finalista a The Voice Senior che si esibirà sul palco centrale con la band diretta dal maestro Dino Gnassi, arrangiatore del Maurizio Costanzo Show e poi, poi cooking show, talk show, gare di cucina, laboratori, degustazioni, spazio per bambini e soprattutto lui, sua maestà il Brodetto, il piatto che sta costituendo un'immagine simbolo della regione Marche. L'evento è stato presentato dalla Confesercenti con la partecipazione dell'onorevole Mirko Carloni, dell'assessore regionale alla pesca e all'alimentazione Andrea Maria Antonini, dell'assessore al turismo Etienne Lucarelli, da Tommaso Di Sante in rappresentanza della Camera di Commercio e da Pier Stefano Fiorelli e Matteo Radicchi, rispettivamente direttore provinciale e responsabile fanese dell'associazione di categoria. Abbiamo collocato il festival in un periodo dell'anno dove c'è una più, diciamo, reperibilità e c'è una maggior disponibilità di pescato fresco. Dalle 1500 porzioni di pesce che abbiamo prodotto lo scorso anno, i nostri marinai quest'anno passeranno, raddoppieranno a 3000 porzioni, perciò ecco ci sarà una maggiore disponibilità e in quei quattro giorni chiaramente poi stiamo parlando di oltre 50 eventi in quattro giorni. Quest'anno si è lanciata anche una visibilità di carattere internazionale. Gli obiettivi che ci siamo sempre prefissati negli anni li abbiamo sempre raggiunti tutti, da quello nel riportare la zuppa di pesce nei menu di tutti i ristoranti del territorio, fino a rendere questa zuppa identificativa del nostro territorio, cioè oggi in Italia quando si parla di brodetto, quando si parla di zuppa di pesce viene in mente Fano e la regione Marche. Oggi abbiamo un altro compito, di rendere internazionale la zuppa di pesce e che Fano e le Marche diventino il polo gastronomico delle zuppe di pesce internazionali. Il Brodetto Fest apre sostanzialmente le iniziative di carattere turistico per la prossima estate. Sì, il nostro obiettivo è anticipare sempre di più i tempi perché arriviamo nel periodo di giugno dove obiettivamente in questo anno, insomma già da questo mese c'è una bella presenza di turisti nella nostra città, ma abbiamo bisogno di destagionalizzare sempre di più. L'enogastronomia, così come la cultura ci aiuta, è per questo che stiamo portando avanti progetti importanti come lo è ad esempio Fano gastronomica e per questo che siamo andati a Londra, a Bruxelles a presentare questo progetto, è per questo che insomma dobbiamo pensare ad una crescita data da una strategia portata avanti dall'amministrazione con la collaborazione dei grandi eventi della città come lo è il Brodetto Fest e anche con la grande collaborazione degli operatori.